Un percorso pubblico privato per realizzare un progetto integrato di valorizzazione del borgo storico di Capaccio Capoluogo. L'obiettivo è la valorizzazione del borgo con investimenti pubblici volti al recupero di spazi aperti, vie, siti, edifici di interesse culturale e facciate di edifici sia pubblici che privati per migliorare il decoro urbanistico e architettonico del centro storico attraverso interventi di restauro e di recupero. Secondo l'indirizzo approvato dall'Aggiunta Comunale si intende agire sulla falsariga di azioni simili realizzate in altre realtà rurali e borghi storici all'interno del PSR Campania mettendo su azioni sinergiche integrate tra pubblico e privato. Il Comune vuole contribuire alla realizzazione di questo progetto in virtù della Convenzione Rinascita dei Borghi che ha stipulato con la BCC di Capaccio Pestum Serino una convenzione finalizzata a finanziare a condizioni agevolate la ristrutturazione di immobili situati nei centri storici. L'amministrazione ha approvato un regolamento per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi e fino al 30% in conto capitale per il recupero e il risanamento degli immobili che ricadono nel piano di recuperi del Comune di Capaccio Pestum. Il Comune prevederà in bilancio di 100.000 euro all'anno per la durata di tre anni e istituirà un comitato tecnico che realizzerà una progettazione congiunta centralizzata negli uffici del Comune. Capaccio capoluogo è un borgo storico di singolare bellezza, una terrazza sulla pianura e sul golfo di Salerno, dichiara il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri. L'obiettivo stabilito fin dal primo momento dalla nostra amministrazione è di attivare tutte le iniziative utili a valorizzarlo, legando le bellezze paesaggistiche e culturali a quelle gastronomiche e delle tradizioni locali. Negli ultimi due anni abbiamo dato grande attenzione al borgo in termini di decoro urbano, curando l'accoglienza turistica, la sistemazione di angoli e scorci, l'installazione di opere d'arte contemporanea, iniziative teatrali e musicali di livello regionale. Abbiamo acquisito al patrimonio pubblico Palazzo Stabile che siamo prossimi a ristrutturare e Palazzo Bellelli, oggi area tecnica del Comune. Sta anche per partire la sistemazione e la pavimentazione del centro storico. Insomma, per il centro storico stiamo investendo 4 milioni di euro, ma l'intervento pubblico non può arrivare ovunque. Ecco perché occorre una sinergia tra pubblico e privato senza la quale il recupero completo del borgo non sarebbe possibile.